Ben trovati, ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it quest'oggi vedremo l'integrazione tra Adobe Premiere ed Adobe Audition Audition è un software per editare l'audio in maniera professionale e molto più curata e approfondita di quanto sia già possibile fare comunque in Adobe Premiere e oggi vedremo come far comunicare questi due software della scuderia Adobe Creative Cloud prima però vi ricordo www.fabioambrosi.it sito dove troverete l'elenco di tutti i tutorial pubblicati e gli articoli di ciascun tutorial vi consiglio se avete voglia di iscrivervi a questo canale YouTube per non perdere le prossime lezioni, i prossimi tutorial e cercatemi su Facebook la pagina è Fabio Ambrosi, mettete un like così resterete sempre aggiornati sulle iniziative che fabioambrosi.it ha in servo per voi come si fa a lavorare un audio realizzato in Premiere magari perché frutto di una timeline gigantesca non vuota come questa chiaramente direttamente in Adobe Audition è veramente molto semplice cominciamo dal primo caso perché non ve l'ho detto ma esistono due strade percorribili quando si vuole lavorare un audio in Audition partendo da Premiere il modo più semplice, il caso più semplice è quando volete lavorare in Audition soltanto una clip audio ipotizziamo di avere una timeline complessa, ipotizziamo di importare anche un video tutorial va, importiamo qualche file video anche così da rendere tutto molto più interessante faccio finta di creare una timeline complessa che chiaramente non è, ok, la stiamo veramente simulando ok, abbiamo una situazione tipo questa, ipotizziamo di voler lavorare questa clip audio solo questa clip audio in Adobe Audition come si fa? bene, il procedimento è semplice potete scegliere quello che volete ci sono tre modi ma sostanzialmente sono identici la prima strada è cliccare sopra la clip che volete modificare in Audition e andare alla voce modifica in Adobe Audition semplice no? la seconda strada è quella di cliccare sopra la clip dentro al pannello progetto con il tasto destro del mouse potete sempre scegliere la voce modifica in Adobe Audition e poi la voce clip la terza strada è identica a questa solo che invece di cliccare qui con il tasto destro del mouse scegliamo la voce modifica e ancora modifica in Adobe Audition e ancora la voce clip qualunque strada voi abbiate scelto l'operazione fa sempre la stessa cosa andiamo a vedere viene aperta la clip dentro ad Adobe Audition e qui potete fare tutte le modifiche che volete questo non è un tutorial Audition quindi io adesso mi limiterò a fare una piccola operazioncina giusto per mostrarvi come una modifica una volta fatta in Audition venga poi portata in Adobe Premiere ok faccio salva chiaramente bisogna salvare dopo aver fatto le modifiche in Audition e come per magia se torniamo in Premiere la clip viene aggiornata con le modifiche fatte attenzione 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 tanti punti esclamativi vicino a questo attenzione le modifiche fatte in Audition quando si clicca su salva quando si fa un salvataggio dentro all'editor della clip sono distruttive vuol dire che se state lavorando una clip audio in Audition quando salvate distruggete il file originale quindi fate molta 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 attenzione la buona notizia è che Premiere sapendo di questo rischio salva per voi una copia del file originale su cui poi andrà a fare le modifiche infatti se guardate nel pannello progetto vedete che Premiere ha creato una seconda versione del file sorgente chiamandolo audio estratto questa dicitura audio estratto vuol dire che è una clip duplicata da quella sorgente su cui poi Audition chiaramente andrà a scrivere quando facciamo salva automaticamente Premiere la sostituisce in timeline quindi come potete vedere questa che era una clip gemella era sempre questa clip qui è rimasta inalterata perché punta ancora all'oggetto originale mentre la clip che abbiamo inviato ad Audition è stata duplicata e rinominata e poi sostanzialmente sostituita qui nella timeline quindi sì Audition quando fate salva va a distruggere il file sorgente ma se noi andiamo a vedere anche nel pannello esplora risorse quindi nella nostra cartella progetti potete vedere che anche qui è stato creato un audio estratto sostanzialmente ed è su questo file che Audition andrà a lavorare lasciando inalterato il file originale ok questa è la strada più semplice modificare una clip ma ipotizziamo che vogliamo modificare in Audition un'intera sequenza perché vogliamo fare un mixaggio magari abbiamo fatto un film o un documentario e vogliamo fare un audio bellissimo bene come si fa a spedire una sequenza intera ad Audition bene la strada è molto simile a quella che abbiamo appena visto selezionate la sequenza nel pannello progetto che volete spedire ad Audition oppure selezionate la sequenza nel pannello delle timeline andate su modifica, modifica in Adobe Audition scegliete la voce sequenza e si aprirà questa finestra non vi spaventate è tutto molto semplice basta leggere e rispondere alle domande che Premiere ci pone il primo campo ci chiede che nome dare alla sessione multitraccia che andremo a creare in Audition chiamiamolo demo il secondo campo ci chiede dove salvare la sessione multitraccia che stiamo per creare in Audition il mio consiglio è sempre quello di mettere tutto il progetto nella stessa cartella magari crea magari creando delle sottocartelle quindi anche qui siate ordinati in questo caso è importante ok? se avete creato un progetto chiamato video per YouTube dentro questa cartella create un'altra cartella chiamata Audition e lì dentro magari andate a salvare sostanzialmente la sequenza multitraccia che stiamo per creare la sessione multitraccia che stiamo per creare poi ci viene chiesto di sostanzialmente quale porzione della timeline spedire ad Audition se non impostiamo un in un out possiamo lasciare questa voce tutta la sequenza e tutta la sequenza verrà inviata ad Audition ma se noi nella nostra sequenza abbiamo impostato un in e un out possiamo dire a Premiere di spedire ad Audition soltanto la porzione di timeline compresa tra l'attacco e lo stacco quindi tra l'in e tra l'out a voi la scelta il mio consiglio nel 90% dei casi è quello di spedire l'intera timeline video cosa vuol dire? vuol dire che noi possiamo spedire ad Audition anche il video non perché noi chiaramente andremo a lavorare sul video ma perché il video può essere un riferimento da tenere sott'occhio quando lavoriamo il nostro audio esistono tre modalità per spedire il video in Audition la prima è quella di inviare il video con il Dynamic Link sostanzialmente non viene esportato nessun file ma Audition e Premiere comunicheranno costantemente in tempo reale questa è una modalità che io sconsiglio perché specie se avete fatto una timeline molto grande con molti effetti rischiate di appesantire molto il vostro computer quindi consiglio la seconda voce che è quella di esportare un video di anteprima dv in altre parole Premiere esporterà un video di bassa qualità e lo importerà in Audition e vi servirà solo come reference ok? l'ultima voce nessuno vuol dire che non esportate nessun video verso Audition noi in questo caso scegliamo la seconda opzione maniglie audio cosa vuol dire? vuol dire che quando esportiamo queste clip in Audition queste clip hanno un inizio e una fine magari questa clip audio aveva ancora una durata maggiore per esempio continuava era uno speech che andava ancora avanti può essere utile avere una maniglia ovvero un margine d'audio in più se esiste o in meno se esiste con cui lavorare e qui diciamo quanti secondi vogliamo mantenere della clip originale una volta che andiamo in Audition un secondo normalmente va bene ma possiamo impostarlo anche a 9 secondi per esempio ed è una buona impostazione ancora in questa sezione possiamo scegliere se spedire ad Audition gli effetti che abbiamo eventualmente applicato alle clip audio in Premiere in questo caso noi diciamo a Premiere di mantenere gli effetti impostati sulle clip e nella voce successiva diciamo a Premiere di mantenere gli effetti impostati sull'intera traccia esistono ovviamente varie opzioni ma per il momento andiamo avanti ok? non ci soffermiamo troppo su questi parametri possiamo dire a Premiere di mantenere anche le informazioni sul pan e sul volume sul bilanciamento verso sinistra o verso destra e sul volume della traccia e ovviamente possiamo dire a Premiere ad Audition in questo caso quindi a Premiere che vogliamo aprire il progetto multitraccia una volta che abbiamo finito questo export verso Audition clicchiamo su ok Premiere sta esportando un video di anteprima per permetterci di vedere il video quando lavoreremo nella sessione multitraccia di Adobe Audition ovviamente questa è una sequenza abbastanza semplice una sequenza molto grande può impiegare anche diversi minuti prima di completare deve fare un export un export di un'ora può anche richiedere un'ora quindi abbiate pazienza e sappiate che è imprescindibile questa cosa se volete vedere una clip video in Audition chiaramente dovete caricarla potete anche caricarla a mano se avete già un export del video nessuno ve lo vieta però ecco questa è un'operazione automatica e soprattutto ci fa un video di piccola qualità quindi di piccole dimensioni con cui lavorare agilmente senza appesantire troppo il nostro computer quando questa operazione di export del video sarà complicata e presumibilmente avverrà tra pochi secondi Audition esporterà anche gli audio separatamente vedete sta esportando tutte le tracce audio tutte le clip audio separatamente e al termine di questa operazione Audition si aprirà magicamente creando una nuova sessione multitraccia guardiamola olè si sta aprendo la sessione multitraccia è tutto automatico io non sto facendo nulla sta facendo tutto il software questa è un'integrazione molto potente disponibile nelle ultime versioni di Premiere e di Audition quindi io vi consiglio di aggiornare i vostri software per avere il massimo della compatibilità eccola questa è la sequenza multitraccia di Adobe Audition anche qui ora io non mi metterò a spiegare molto questo non è un tutorial su Audition magari dedicheremo un corso intero a questo software meraviglioso come potete vedere c'è il video di anteprima che abbiamo esportato perché noi andando avanti e indietro possiamo vedere quello che sta accadendo nel video quando lavoriamo con l'audio una volta che abbiamo terminato con le modifiche non basta fare salva perché qui staremo salvando solo il progetto della nostra sessione multitraccia dobbiamo esportare fisicamente l'audio per poi riaprirlo in Premiere per esportare un audio basta selezionare la sessione multitraccia su cui stiamo lavorando andare su file esporta e scegliere mix down multitraccia anche qua scegliamo di esportare tutta la sessione ci sono un po' di impostazioni che adesso non vedremo ma possiamo dire la qualità la tipologia di file che vogliamo file audio che vogliamo tirare fuori dove mettere questo file audio e chiaramente il nome che vogliamo dare al file audio che stiamo esportando o ai file audio perché non lo dico ma noi potremmo esportare anche ciascuna traccia singolarmente ok? quando abbiamo fatto le nostre scelte clicchiamo su ok Premiere sta esportando solo l'audio il video in questo caso non viene proprio considerato tornati in Premiere dobbiamo importare l'audio che abbiamo appena creato in Audition quindi facciamo un import normalissimo di quelli che noi siamo già soliti fare ovviamente cerchiamo la cartella originale su cui stavamo lavorando prima vediamo se la troviamo eccola qua dovrebbe essere questa qua sì 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 eccolo qua il file che io avevo esportato si chiama demo traccia ok? era un WAV un formato d'onda clicco apri importo il file audio come fosse un qualunque oggetto multimediale lo posiziono sotto a tutte le altre tracce che in questo caso posso anche mettere in mute perché sarebbero insomma non vogliamo far suonare tutte le tracce vogliamo solo far suonare la traccia che abbiamo lavorato con Audition possiamo anche rimuoverle perché tanto tutto l'audio a questo punto sta su questa traccia quindi potete o metterle in mute o rimuoverle è la stessa cosa e il gioco è fatto sostanzialmente abbiamo la nostra traccia nuova con l'audio lavorato in Audition e queste altre tracce che o eliminiamo o tranquillamente mettiamo in mute questo è tutto per quanto riguarda l'integrazione tra Adobe Audition ed Adobe Premiere si si ci sarebbe ancora molto da dire e so che molti di voi vorrebbero avere altre informazioni su Audition ma chiaramente questo è un corso su Premiere quindi andiamo avanti andiamo avanti agilmente prossimamente faremo anche dei tutorial su Audition se avete voglia iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere i prossimi tutorial cercatemi su Facebook come Fabio Ambrosi in quella pagina nella pagina Fabio Ambrosi daremo anche indicazioni sul quando usciranno i corsi su Audition per esempio vorrò fare in futuro anche dei tutorial live per permettervi di commentare in tempo in presa diretta queste lezioni e fare chiaramente le domande live ma lo faremo più avanti quando ci saranno un pochettino più di iscritti a questo canale YouTube e se vi fa piacere www.fabioambrosi.it la lezione che avete appena visto è disponibile anche sul mio sito internet grazie grazie per la pazienza nel prossimo tutorial parleremo di color correction molti saranno entusiasti di questa notizia molti me lo stanno chiedendo da tempo ovviamente anche lì non faremo un corso sulla color correction faremo un corso sul come fare la color correction in Adobe Premiere anche quello è un tema che richiederebbe un corso a parte noi daremo soltanto le indicazioni necessarie per lavorare con il colore dentro a Premiere grazie ancora per avermi seguito grazie per i commenti commentate per domande ci vediamo ci sentiamo nel prossimo tutorial ciao